L'obiettivo di questa lezione è quello di parlare dell'ingegneria del software. Che cos'è l'ingegneria del software? È una disciplina relativamente recente rispetto a altre discipline che invece sono molto più antiche, non so, l'ingegneria civile, l'ingegneria meccanica, tanto per citarne alcune, che però si rivolge a questo elemento nuovo che è il software. Da dove arriva il termine ingegneria del software? Il termine ingegneria del software arriva da questa signora che si chiama Margaret Hamilton, che qui vedete di fronte a una pila di carta, la carta che contiene sostanzialmente tutto il codice che lei e il team che guidava ha scritto per il progetto Apollo, ovvero quello che ha portato l'uomo sulla Luna. Lei per la prima volta, cercando di gestire un progetto software così ampio, ha coniato il termine ingegneria del software. I problemi c'erano, stiamo parlando di quegli anni e diciamo che se da un lato il termine ingegneria del software è stato utilizzato da lei per andare a spiegare tutte le complessità nella gestione di un progetto software di grandi dimensioni, la nascita della disciplina si può rintracciare a una conferenza organizzata dalla Nato a Garmisch nel 1968, quindi sono esattamente gli stessi anni dell'uomo sulla Luna, la conferenza era stata organizzata dato il problema che c'era, soprattutto relativamente al software militare, nell'andare a costruire software di grandi dimensioni, complesso, mantenendo quelli che erano i criteri fondamentali per un buon progetto software, ovvero riuscire a consegnare un software che funziona, riuscire a consegnarlo ragionevolmente nei tempi previsti e soprattutto spendere quello che era stato previsto, quindi stare all'interno del budget. Torniamo al nostro termine ingegneria del software. Ci sono due termini fondamentali, software e ingegneria. Mi fermo un attimo. Secondo voi, che cos'è il software? Che se io vi chiedessi, immaginiamo di avere un esame orale e vi faccio la domanda, che cos'è il software? Che cosa rispondereste? Non è un esame orale, quindi potete scrivere tranquillamente sulla chat senza temere che vi dia un voto negativo. Allora, un programma. Ci siamo. Un insieme di codice che gira su un hardware. Ciò che viene eseguito dall'hardware. Sì. Una sorta di anima in grado di utilizzare l'hardware per determinati scopi. Questa mi piace come definizione. Tutto ciò che non si può toccare di un PC. Beh, diciamo sì che questo è più etimologico, nel senso che effettivamente il software non... Ciò che non si può tastare, quindi di nuovo, non sono elementi fisici. Un insieme di applicativi che viene eseguito da un hardware. L'interfaccia per l'hardware, sì. Un insieme di direttive senza rappresentazione fisica da eseguire per l'hardware. Sì, ok. Diciamo che avete colto alcuni degli aspetti importanti del software. Insieme di procedure... Beh, il codice genetico di un corpo mi sembra forse un po' lontano. Allora, ci sono alcuni aspetti che avete colto. Ovvero, il software è qualcosa che non riusciamo a toccare. È un qualcosa che sostanzialmente guida delle elaborazioni che vengono svolte dall'hardware che è sottostante. E' una serie di istruzioni, quindi non è una cosa sola. Ecco, in realtà quando parliamo di software parliamo di qualcosa di un po' di più di un programma. Se volete, non esiste un'unica definizione precisa del software. La definizione che personalmente a me piace di più è questa. è il linguaggio invisibile che sussurra storie di possibilità all'hardware. Quindi, alcune delle vostre definizioni, tutto sommato, rientravano qui. Questa ovviamente è più o meno poetica. Questa definizione ce l'ha data Grady Butch, che è uno dei consulenti che stavano dietro il linguaggio UML, di cui abbiamo già parlato nel corso. Quindi, è un qualcosa che permette di andare a far svolgere all'hardware il suo compito. Il secondo elemento della nostra definizione, quindi abbiamo detto software engineering, quindi il software più o meno abbiamo un'idea di cosa si tratti. Il secondo aspetto è l'engineering. Che cos'è l'ingegneria? Di nuovo, se vi chiedessero di dire cos'è l'ingegneria, che cosa direste? Allora, ciò che fa perdere i capelli, sì, può essere. Speriamo non tanti e non a tutti. Anzi, questa domanda probabilmente ve la faranno se darete l'esame per diventare ingegneri. Di cosa tratta l'ingegneria? Tratta di tanti aspetti. Ok, allora, questa è una definizione un po' più completa. Questa è la capacità di sfruttare leggi matematiche e fisiche in modo applicativo per progettare un qualcosa il più ottimale e funzionale possibile. Beh, diciamo che ci sono molti aspetti interessanti e corretti che colgono il segno. Quindi, una base scientifica, l'idea di andare a progettare qualcosa e di andare a ottimizzarlo il più possibile. Ovviamente non c'è nulla di perfetto, ma di avvicinarci. Connubiota tecnica e inventiva? Sì, questo è un po' più generale. Ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo. Direi che questo, più che una definizione, è uno dei principi ispiratori, sicuramente. Se vogliamo andare a capire che cos'è l'ingegneria, beh, l'ingegneria tratta di almeno tre aspetti diversi. L'ingegneria tratta, per l'appunto, di design, ovvero la ricerca di una soluzione dato un problema all'interno di una serie di vincoli. Quindi, l'ingegnere è quello che, ovviamente, ha delle conoscenze matematiche, fisiche, comunque, del sistema di cui si tratta. Nel caso del software, le conoscenze fisiche sono relativamente poco interessanti e poco utili. Sono conoscenze matematiche o della logica di elaborazione. E, ovviamente, è quello che, dato un problema, cerca di trovare qualcosa che possa, in qualche modo, andarlo a risolvere. Ovviamente, all'interno di un insieme di vincoli. I vincoli, banalmente, sono quelli principali, a cui dobbiamo comunque noi tutti sottostare. Tempi, quindi io devo andare a produrre una soluzione entro un tempo utile. E costi, ovviamente, mi danno una certa quantità di soldi e io posso utilizzarli nel migliore dei modi possibili, ma non ne posso spendere di più, altrimenti, sostanzialmente, io o la mia azienda ci rimette. Quindi, a differenza del matematico, che può dire, supponiamo che il cavallo sia una sfera e va avanti di questo passo, l'ingegnere ha dei vincoli concreti, fisici o meno, a cui deve rispondere. E quindi cerca di trovare una soluzione al suo interno. Quindi il design, se volete, è il primo degli aspetti che riguardano l'ingegneria. Ma c'è un altro aspetto importante. L'altro aspetto importante è quello di costruzione. Perché una volta che noi abbiamo progettato il nostro oggetto, qui stiamo parlando di ingegneria in generale, quindi non semplicemente di ingegneria del software, una volta che noi abbiamo un'idea di come costruire il nostro oggetto, può essere un oggetto fisico, può essere un programma, dobbiamo andarlo a costruire. Quindi, dobbiamo pianificare, andiamo a capire quelli che sono sostanzialmente i piani, i diversi, scusate, non i piani, ma le diverse scadenze, le varie fasi che si susseguono nell'andare a costruire il nostro oggetto. Se parliamo di un software, ragionevolmente, noi abbiamo una vaga idea di come possiamo strutturarlo, dovremmo andare a capire esattamente nel dettaglio quali sono i requisiti, dovremmo andare a scrivere del codice, dovremmo andare a testarlo a livello minimale, dovremmo andare a rilasciare una prima versione, vedere se funziona tutto assieme. Quindi abbiamo una serie di passaggi che dobbiamo fare e dobbiamo pianificare e disporli nel tempo. Dobbiamo andare a fare monitoraggio, quindi andare a capire se le attività che svolgiamo man mano effettivamente vengono svolte come abbiamo pianificato, e fare un'operazione di controllo, ovvero se c'è qualcosa che non va, intervenire. La differenza tra controllo e monitoraggio è per l'appunto questa. Il monitoraggio consiste nell'andare a osservare, mentre invece il controllo consiste nel agire a fronte di un'osservazione. E ovviamente deve occuparsi di andare a capire quali sono gli strumenti e le tecniche. Banalmente, se parliamo di software, che ambiente di sviluppo utilizziamo, che linguaggio utilizziamo, che server per la gestione delle configurazioni utilizziamo. ci sono tantissime scelte tecniche che riguardano la costruzione e che solo in parte vengono, diciamo così, affrontate in fase di design, quindi individuare la soluzione ideale, dato ideale, o comunque ottimale, dato i vincoli. oltre a questo, quindi la costruzione e prima ancora la progettazione, c'è un'altra fase importante, che è quella di operatività. I nostri sistemi, una volta creati, devono essere messi in campo e quindi dobbiamo andare a trovare delle soluzioni per andare a gestirli. Vi faccio un esempio molto pratico e attuale. Non so quanto avete seguito sui giornali la questione relativa alla app che dovrebbe facilitare il tracciamento dei contatti per andare a combattere la malattia legata al coronavirus. In questa app ci sono diversi aspetti di ingegneria. Il design, sostanzialmente, cerca di capire quali sono i meccanismi che possiamo andare a utilizzare per fare questa operazione. Diciamo che in generale c'è abbastanza consenso sul fatto che deve esserci uno scambio molto semplice a livello di singole applicazioni, quindi copie di telefoni, di codici, che poi possono essere utilizzati in seguito per capire chi è stato vicino a chi, senza dover andare a memorizzare informazioni di posizione geografica che potrebbero avere degli impatti di privacy o di violazione della privacy significativi. Ovviamente poi c'è tutta la fase di costruzione, cioè devo pianificare lo sviluppo, quindi quando questa app sarà pronta, quando farò il test, come faccio a controllare che effettivamente lo sviluppo vada a buon fine, che strumenti uso per andarlo a costruire, e poi l'operatività. Se noi dobbiamo avere milioni di istanze di questa app in funzione, che possono colloquiare con dei server, è ovvio che dobbiamo avere un'infrastruttura che sta dietro significativa. Non basta avere un PC nello sgabuzzino per far funzionare tutta questa infrastruttura, devo avere una serie di server che possano andare a interagire con le app, interagire tra di loro e dare supporto. Ovviamente questi devono funzionare. Quindi c'è qualcuno che deve garantire che il servizio continui, prevenire i guasti, fare sostituzioni, andare a gestire tutta questa parte. Quindi i tre aspetti fondamentali che riguardano l'ingegneria sono la progettazione, la costruzione e l'operatività. Quindi ci sono molti aspetti. Se volete, per quanto riguarda l'ingegneria del software, alcuni aspetti sono più importanti di altri. Vi cito una definizione di Dave Parnas di che cos'è l'ingegneria del software, ovvero l'ingegneria del software è la costruzione di un software che ha molte versioni fatto da molte persone. Qui dentro ci sono alcuni aspetti che sono importanti. Ovviamente tralascia tanti aspetti che sono rilevanti per l'ingegneria del software, ma focalizza l'attenzione su due aspetti fondamentali. Primo, quando parliamo di ingegneria del software non stiamo parlando di un'attività fatta da una persona. Quindi quello che voi fate, che avete fatto di solito nei corsi precedenti, in questo corso, è quello di andare a scrivere il software per conto vostro. Al massimo vi consultate con qualcuno di noi se avete dei problemi, con i vostri compagni di corso, ma sostanzialmente è per risolvere dei problemi puntuali. Non fate un'operazione di sviluppo del software congiunta, in cui ognuno fa un pezzettino e poi si mette tutto assieme. Questo è uno degli aspetti più difficili ed è uno degli aspetti fondamentali che devono essere gestiti dall'ingegneria del software. Il secondo aspetto che vediamo in questa definizione è che ci sono molte versioni. L'ingegneria del software ha poche leggi, ma una di queste, una delle leggi di Lehmann, dice che qualunque software che abbia una qualche utilità deve evolvere. Quindi l'unico software che non cambia, cioè viene prodotto e resta tale e quale per sempre è un software che non è utilizzato da nessuno. Perché? Perché ovviamente le esigenze cambiano. Gli utenti hanno nuove esigenze, le loro esigenze cambiano, vengono scoperti dei difetti e quindi qualunque software che venga attivamente utilizzato è destinato a evolversi e quindi l'ingegneria del software deve andare a gestire questo problema di evoluzione. Quindi questa è la definizione di ingegneria del software, una delle tante possibili, una che cattura un paio di aspetti veramente fondamentali per l'ingegneria del software di Dave Farnas. Dave Farnas, tanto per darvi un'idea, è colui che ha per primo formulato l'idea di modularità e di information hiding, che sono due concetti fondamentali che stanno alla base della programmazione ad oggetti. Nelle risposte che mi davate prima quando vi ho chiesto cos'è un software, qualcuno ha detto che è un programma. Ecco, il software, come lo intendiamo nel contesto di ingegneria del software, non è semplicemente un programma. Non è semplicemente un programma perché quando parliamo di sviluppo del software, noi andiamo a introdurre, oltre al programma a sé stante, quindi il codice, Java, quello che impariamo in questo corso, C, quello che potete aver imparato in corsi precedenti, o Matlab, o qualunque altro linguaggio che voi vogliate utilizzare. Quando parliamo di sviluppo del software, oltre a quello, c'è un altro insieme di artefatti che vengono prodotti. Ci sono delle regole che devono essere implementate nel software, c'è la documentazione e ci sono i dati. Se pensate oggi, buona parte del valore di un software o di un'applicazione è dato da quali dati vengono utilizzati. Per cui, l'enfasi, almeno oggi, è più sui dati che sul software a sé stante. Riallacciandoci alla definizione che dava Parnas, ovvero che è un multi-version software, ecco, il software tendenzialmente è un qualcosa che vive molto a lungo. Un programma, almeno per come lo intendiamo, o me l'hanno fatto intendere fino a questo punto, è un qualcosa che voi scrivete, consegnate come esercizio di laboratorio, come esercizio d'esame ed è finita lì. In realtà, noi dobbiamo andare a prevedere di supportare questo software per periodi molto lunghi. Un software ha tanti stakeholder. Cosa vuol dire? Immagino che conoscete la parola stakeholder, la parola stakeholder è tradotta in italiano come portatore di interesse, ovvero quando parliamo di software e non di un semplice programma, quindi una banale collezione di istruzioni, molte persone sono coinvolte e hanno interessi in quel programma, interessi che in qualche modo dobbiamo andare a gestire. Tenete presente che il primo portatore di interesse sono gli utenti del sistema, quindi gli utenti del sistema vorrebbero che il software facesse quello che a loro serve. Ovviamente, qualunque attività che viene svolta da un software ha impatti molto più ampi. Se immaginate un esempio molto semplice, un sistema di pagamento su telefono cellulare, ovviamente il primo portatore di interesse siete voi che utilizzate questo software, ma ovviamente dietro c'è anche l'altra persona, quella che riceverà il pagamento, che magari non usa quel software, riceverà il pagamento in maniera diversa. C'è chi quei soldi ve li tiene e li passa all'applicazione, diciamo la banca, o il gestore della carta di credito se passate da quello. Il gestore della carta di credito ovviamente poi può essere esploso ulteriormente, perché abbiamo l'azienda, la parte tecnologica, abbiamo gli azionisti dell'azienda che ovviamente non vogliono perdere dei soldi se questo pagamento non va a buon fine. c'è poi chi riceve i soldi e tutta l'infrastruttura che sta dietro, quindi la banca di chi riceve i soldi. Capite che dietro anche un'applicazione molto semplice ci sono tantissimi interessi e io quando devo andare a progettare, realizzare e poi tenere in operatività il software devo tenerne conto. Il software normalmente dipende da il lavoro di tanti esseri umani e quindi torniamo al discorso che facevo prima parlando della definizione di Parnas non è un qualcosa che voi scrivete davanti al vostro pc isolati è un qualcosa che richiede collaborazione. So che soprattutto nell'immaginario collettivo o nel cinema il programmatore è l'individuo nerd solitario che sta davanti al computer e sforna milioni di righe di codice che salvano il mondo. Ecco le cose non funzionano così normalmente qualunque software che abbia una qualche utilità e che sia effettivamente utilizzato è molto spesso sviluppato da team di persone e quindi l'ingegneria del software deve andare a capire come gestire questi team come far collaborare le persone in modo che effettivamente producano un software che poi funzioni e soprattutto alla fine bisogna parlare sempre di soldi lo sviluppo del software rispetto alla scrittura di un semplice programma è estremamente più costoso quindi immaginate di dovervi mettere voi a scrivere una piccola applicazione che risolve un particolare problema semplice quanto volete che so la gestione della coda per entrare al supermercato in modo da gestire un numero di persone che stanno nel supermercato limitato per ridurre i contagi voi immaginate il software e potete pensare di riuscire a scrivere il programma che risolve quel problema che so nel giro di una settimana il punto è che poi quello è un programma a sé stante manca tutto il contorno dovete andare a scrivere la documentazione dovete andare a gestire in qualche modo i dati dovete andare a prevedere una evoluzione nel tempo quindi ci sarà della manutenzione perché ci sarà qualcuno che probabilmente troverà qualche difetto probabilmente se lo scrivete voi l'avete pensato voi e quindi non avete tenuto conto in nessun modo delle esigenze di tante altre persone che lo utilizzano o che indirettamente hanno subiscono un impatto del software e se pensate di svilupparlo da soli magari pensate di impiegarci una settimana se ci sono tante persone è probabile che ci sia necessità di coordinarsi quindi c'è tutta una quantità di altri aspetti aggiuntivi rispetto alla mera e semplice scrittura del codice il test ad esempio che fanno il software un qualcosa che è molto più costoso rispetto alla semplice scrittura del codice per cui quello che viene l'erroe che viene molto spesso fatto da chi non ha magari l'abitudine col software o magari conosce un linguaggio di programmazione ma non ha un'idea della complessità dello sviluppo del software è di sottodestimare quelli che sono i costi quindi sviluppare del software costa perché ci sono un sacco di attività addizionali rispetto al banale scrivere del codice è importante ricordarsi che quando parliamo di ingegneria del software ci sono alcune caratteristiche fondamentali è una disciplina che è sostanzialmente evolutiva e in parte sperimentale nel senso che mentre il software sostanzialmente non invecchia il codice che scrivete oggi esiste continuare a resistere nello stesso formato senza essere deteriorato in alcun modo perché non è fisico tuttavia il contesto in cui funziona cambia evolve e quindi il software deve adattarsi ed è sperimentale nel senso che noi non riusciamo a dimostrare che un certo pezzo di software è la soluzione esatta e ideale per un certo problema proviamo speriamo che funzioni dopodiché siamo disposti a farlo evolvere e cambiarlo un altro aspetto fondamentale è che quando abbiamo parlato di tre aspetti fondamentali delle ingegnerie ovvero la progettazione la costruzione e poi l'operatività quando parliamo di software la costruzione non è simile alle altre discipline dell'ingegneria perché perché nelle altre discipline dell'ingegneria l'aspetto importante è andare a costruire tanti pezzi fisici tutti uno uguale all'altro per quanto riguarda il software io posso scrivere il mio software ve lo mando via mail e automaticamente ho fatto centinaia di copie con un costo assolutamente trascurabile quello che costa nel software è costruirlo per la prima volta e quindi molto spesso non si parla di costruzione del software ma si parla di sviluppo ok è più simile a un'attività diciamo artigianale o artistica in cui effettivamente c'è un sacco di lavoro per produrre quell'esemplare e l'esemplare è sostanzialmente unico a differenza di un dipinto il software poi una volta che c'è lo posso duplicare molto facilmente il dipinto ho fatto il lavoro e comunque non riesco poi a duplicarlo se non facendo delle foto e come abbiamo detto più volte alla fin fine c'è sempre dietro la tecnologia base che è la tecnologia umana ok oggi si parla tanto di intelligenza artificiale ma sostanzialmente dietro un'intelligenza artificiale c'è un'intelligenza umana che ha scritto il codice che permette di farla funzionare e sarà così ancora per un buon numero di anni ok molto probabilmente prima che io o anche voi andiate in pensione non vedremo nessuna intelligenza artificiale in grado di scrivere del software al posto nostro l'aspetto umano fondamentale è quello che in realtà è emerso già dai primi momenti in cui si è parlato di ingegneria del software quella che vedete qui è la copertina di un libro scritto da Fred Brooks che si chiama The Mythical Man Month ovvero il mitico mese uomo allora il mese uomo è un qualcosa che viene utilizzato non soltanto in ingegneria del software ma in qualunque contesto per andare a valutare quanto lavoro necessario per fare un'attività quindi il mese uomo è quanto pago una persona per svolgere un lavoro per un mese e quindi per sapere quanto mi costa la mia attività devo capire quante persone servono e per quanti mesi devo lavorare moltiplico moltiplico per lo stipendio di queste persone e ho ottenuto il costo ovviamente se io ragiono in termini di mesi uomo se ho bisogno di fare qualcosa nella metà del tempo raddoppiando le persone di mezzo ai tempi a parità di costo questo è un ragionamento che funziona forse se devo raccogliere delle mele in un frutteto se invece di mettere 10 persone ne metto 20 fanno lo stesso lavoro nella metà del tempo quando parliamo di qualunque cosa leggermente più complessa questo ragionamento non funziona anzi se andiamo a ragionare in termini di software questo ragionamento normalmente è controproduttivo infatti già nel 75 Fred Bruce diceva che aggiungere forza lavoro a un progetto software che è in ritardo non fa altro che renderlo ancora più in ritardo perché abbiamo una componente molto importante di interazione umana persone che devono collaborare tra di loro e questa componente ovviamente nel momento in cui aggiungo persone si complica perché questa lezione più o meno funziona perché ci sono io che parlo voi tutti ascoltate o fate finta di ascoltare e non c'è una comunicazione tra di voi allo stesso tempo se ognuno di voi scrivesse in chat quello che gli passa per la testa in ogni singolo istante e ogni altra persona rispondesse ovviamente avremmo un'esplosione di comunicazioni questa esplosione cresce con il quadrato del numero di persone che seguono la lezione o nel caso dello sviluppo del software col numero di persone coinvolte per cui in generale ragionamenti molto lineari che vengono fatti in altri contesti nel contesto dell'ingegneria del software non funzionano anzi ci danno dei risultati opposti tuttavia oggi molte persone che gestiscono team software ma non hanno competenze di ingegneria del software ancora pensano che sia sufficiente aggiungere delle persone a un team di sviluppo per fare più in fretta ecco di solito non funziona così e i risultati sono sotto gli occhi di tutti l'esperienza di software fatti male che non funzionano ce l'abbiamo sempre ecco molto spesso l'origine è la gestione del progetto software di sviluppo non è stata fatta nella maniera opportuna c'è un altro aspetto fondamentale che noi dobbiamo tenere presente quando andiamo a sviluppare software ed è l'aspetto etico qui cito di nuovo Grady Butch che ha detto che ogni linea di codice ha implicazioni etiche o morali ok quindi finché scrivete un programmino che serve per superare l'esame di programmazione di oggetti è un conto ma nel momento in cui il codice che scrivete verrà utilizzato da qualcuno tutto quello che fate quasi ogni linea di codice che voi scrivete ha delle conseguenze morali o etiche il fare le cose in un modo o nell'altro può impattare altre persone e quindi avere delle conseguenze a questo punto la domanda è quanto devo preoccuparmi di questo la legislatura è un po' vaga e poi molto spesso quando noi andiamo a comprare del software c'è sempre una clausola che ci dice questo software viene fornito senza nessuna garanzia ovviamente questo funziona noi quando andiamo a comprare del software diciamo così a pacchetto quindi andiamo sul play store andiamo a scaricare una app e quindi questa app la prendiamo magari la paghiamo anche ma non ci viene data nessuna garanzia se invece il software viene comprato che so da un'azienda o da una pubblica amministrazione il fornitore invece le garanzie deve fornirle ok normalmente fa parte del contratto se la pubblica amministrazione non chiede queste garanzie ha fatto una stupidaggine stupidaggine che purtroppo succede molto spesso ma a questo punto il singolo programmatore che svolge una certa attività ha una responsabilità non so quanti di voi ricordano lo scandalo del dieselgate ovvero le modifiche che erano state fatte nelle centraline della volkswagen per andare a diciamo così barare sui test anti-inquinamento alla fine chi è andato in prigione era l'ingegnere che ha gestito la scrittura di quel codice che andava a abbassare le emissioni quando si accorgeva che c'era un test in corso l'amministratore delegato della volkswagen praticamente non è stato toccato quindi il rischio quando voi andate a scrivere del codice è che poi alla fine le responsabilità cadano su di voi quindi in generale da un punto di vista professionale ma in generale da un punto di vista di etico quanto cittadini è vostro dovere nel momento in cui voi andate a scrivere del codice valutare quelle che sono le implicazioni di quello che scrivete ok e la risposta mi hanno chiesto di fare quello e il mio lavoro lo faccio punto e basta è una scusa che di solito non regge quindi se vi chiedono come programmatori o come project manager o program manager di andare a fare qualcosa che va contro le regole etiche ecco è vostro dovere rilevare quelli che sono i problemi e opporvi a queste scelte a questo proposito c'è un codice etico di condotta professionale che è quello che trovate a questo link che è stato sviluppato dall'ACM che è una grande organizzazione che si occupa degli aspetti di computazione quindi software hardware e aspetti collegati questo codice etico sostanzialmente va a definire una serie di aspetti generali quelle che sono le responsabilità da un punto di vista professionale quelle che sono le responsabilità da un punto di vista di manager quindi le professional responsibilities sono le responsabilità del singola persona che svolge una qualunque attività quindi il programmatore che scrive una linea di codice e poi ci sono le professional leadership principle che sono le responsabilità di chi gestisce un team che sviluppa software o sviluppa qualunque applicazione che utilizza software e hardware e poi ci sono diciamo nella parte 4 di questo code of ethics quelle che sono le regole che ci permettono di capire se quello che facciamo è segue il codice oppure no tenete presente che nella pratica ci sono stati molti casi in cui i programmatori sono stati quelli da cui è nata l'opposizione a uno sviluppo di un codice che non è etico esempio molto concreto e pratico e abbastanza recente l'anno scorso un anno e mezzo fa Microsoft era stata coinvolta in un contratto col governo degli Stati Uniti per andare a sviluppare del software che permettesse di tracciare gli immigrati quelli che attraversavano sostanzialmente il confine con il Messico sostanzialmente perché come probabilmente avrete letto c'è un'iniziativa del governo americano di andare a prendere queste persone e sbatterle in quelli che sono a tutti gli effetti analoghi a dei campi di concentramento con condizioni umanitarie molto gravi ecco i dipendenti della Microsoft a un certo punto resosi conto che il loro software sarebbe stato utilizzato per andare a fare delle attività diciamo amorali o non etiche hanno protestato e hanno chiesto alla loro azienda di non fare quell'attività e di lasciare perdere il contratto effettivamente Microsoft ha dato retta ai suoi dipendenti e quindi in risposta a quello che era un'esigenza un problema etico quello che sarebbe stato il software sviluppato chi avrebbe dovuto svilupparlo se ne è reso conto l'ha segnalato e l'azienda non ha fatto il contratto quindi questo è quello che è un po' la sintesi di quelli che sono gli aspetti principali che riguardano l'ingegneria del software a questo punto noi con riferimento a quegli aspetti importanti dell'ingegneria che erano la progettazione la costruzione e l'operazione ci concentriamo un po' di più sul secondo sul primo quando noi abbiamo parlato di design pattern quando abbiamo parlato di come utilizzare i costrutti del linguaggio Java per andare a risolvere particolari problemi ci siamo occupati sostanzialmente degli aspetti di design a questo punto vorrei fare una piccola panoramica su quelli che sono gli aspetti di costruzione del software ovvero quello che si chiama il processo di sviluppo del software qual è l'obiettivo del processo di sviluppo del software sostanzialmente è quello di andare a produrre il software e quindi abbiamo detto non semplicemente del codice ma anche la documentazione i dati eccetera in modo che ci siano delle proprietà definite e predicibili in termini di processo e di prodotto quali sono le proprietà di processo sostanzialmente i costi e la durata quindi ci sono delle attività che vengono svolte per produrre il software quello è il processo che viene messo in atto per costruire il software e noi vogliamo andare a cercare di fare questo sviluppo del software con tempi e costi predefiniti e che riusciamo probabilmente a tenere sotto controllo quindi dobbiamo sapere che mettendo in atto alcune pratiche avremo costi più o meno alti tempi più o meno lunghi e poi vogliamo avere anche come obiettivo un prodotto che abbia alcune proprietà le funzionalità quindi che cosa fa il nostro software in termini di input e di output ma non solo affidabilità prestazioni eccetera quindi l'idea è che dobbiamo andare a mettere in piedi un processo che ci permetta di fare il tutto secondo certi tempi modi e costi e andando a creare quello che è un prodotto che risponde alle esigenze iniziali quali sono le attività che sono coinvolte in questo beh in pratica abbiamo alcuni aspetti fondamentali la raccolta dei requisiti quindi capire cosa deve fare il nostro software la definizione dell'architettura generale della nostra soluzione e il design di dettaglio e poi la realizzazione quella che si chiama implementazione la scrittura del codice scrittura del codice che molto spesso è divisa in due fasi quindi scrivere i singoli moduli e poi metterli assieme come vi dicevo mettere assieme gli elementi magari sviluppati da persone diverse è un qualcosa di estremamente complicato e quindi molto spesso abbiamo una fase di scrittura delle singole unità e poi una fase di integrazione è quello che possiamo schematizzare in questo modo noi sostanzialmente abbiamo una fase iniziale di definizione di requisiti che produce un documento di requisiti ovvero una descrizione di quello che deve fare il nostro software e di quali sono le sue caratteristiche tenete presente che quando parliamo di requisiti non parliamo esclusivamente di elenco di che cosa fa il nostro software ma abbiamo anche tutta una serie di altri requisiti cosiddetti non funzionali che ci vanno a descrivere altre caratteristiche del nostro software l'affidabilità l'efficienza gli aspetti di sicurezza quindi i requisiti non sono semplicemente input output come i requisiti che abbiamo visto nei nostri esercizi di laboratorio dove ci dicono che questo metodo riceve questi parametri e deve produrre questo risultato questi sono requisiti funzionali in aggiunta in un sistema software reale abbiamo tanti altri requisiti che normalmente sono non funzionali abbiamo poi una fase di definizione di quella che è l'architettura cioè l'impalcatura generale del nostro software e il design ovvero il dettaglio di come vengono realizzati i nostri elementi quando parliamo di design spesso scendiamo a livello di classi e collaborazioni tra classi e quindi abbiamo quello che è un documento di progetto il documento di progetto è l'input per poter andare poi a fare quella che è l'implementazione scrittura del codice che ci produce una serie di unità che verranno poi integrate producendo infine il sistema come vedete qua la parte di implementazione è stata messa come un qualcosa di multiplo perché mentre ragionevolmente la parte di progettazione è un'unica filiera quando posso andare a sviluppare ecco qui effettivamente posso andare a parallelizzare quello che è l'effort e quindi avere tanti team che lavorano contemporaneamente su diversi aspetti del mio software oltre a questo ovviamente abbiamo la necessità di fare tutta una serie di altre attività quelle che di solito vengono chiamate attività di VMV verification and validation in italiano verifica e convalida ok e sostanzialmente l'idea è che dobbiamo andare a controllare che i requisiti siano corretti che il design l'architettura siano corretti che il codice sia corretto questo controllo viene fatto su due livelli per l'appunto di verifica e di convalida la verifica è un qualcosa di diciamo interno al processo e che guarda il singolo passo e quindi va a verificare ad esempio che il codice sia consistente con quello che era il design che è stato dato questa si chiama verifica la convalida è un qualcosa che è molto più ampio e va a verificare che un certo prodotto il codice ma anche il design o requisiti effettivamente corrispondano a quello che erano le esigenze del mio committente dei miei utenti quindi verifica controllo che il singolo passo sia corretto quindi so che un certo un certo un certo metodo deve dare un dato output a fronte di un certo input e verifico che effettivamente quello sia corretto quindi quella è una verifica la convalida è sì ma quel metodo con quel risultato effettivamente risponde a quelle che erano le esigenze di partenza del mio progetto per cui lo schema che abbiamo visto prima quando aggiungiamo le attività di verifica e convalida prevede una serie di altre attività quindi qui vediamo in arancione quelle che sono le attività e in violetto quelli che sono gli output di queste attività quindi abbiamo i requisiti e la versione controllata dei requisiti il design è la versione rivista l'unità è la versione rivista quindi dopo il test tendenzialmente oltre a queste attività di verifica e convalida ovviamente ci sono una serie di altre attività che sono quelle di gestione devo andare in qualche modo a gestire il mio progetto e qui parliamo di project management ovvero qualcuno che decida chi deve fare che cosa che vada a monitorare l'avanzamento che possa fare delle stime e eventualmente possa fare operazioni di controllo quindi andare a intervenire dove è necessario di gestione delle configurazioni quindi andare a capire tutti gli elementi tutti gli artefatti che sono prodotti devono essere immagazzinati da qualche parte devono essere accessibili bisogna tenere traccia della loro storia banalmente quando io vado a fare una modifica su del codice devo avere la versione precedente quella nuova perché se ho sbagliato devo poter tornare indietro e poi devo fare tutte le attività di quality assurance quindi andare a definire degli obiettivi garantire che il lavoro che è stato fatto corrisponda a questi livelli di qualità e controllare i risultati e quindi alla fine queste sono tutte una serie di attività che vengono coinvolte in cui scusate in cui vengono coinvolti tutte le persone che partecipano a un prodotto software quindi alla costruzione del software esiste uno standard che si chiama ISO 12307 che definisce tutte quelle che sono le attività necessarie per andare a sviluppare un software ovvero tutti quelli che sono i processi per processo si intende sostanzialmente una serie organizzata di attività che hanno un certo obiettivo e questo standard che potete accedere a cui potete accedere tramite l'URL che vedete in basso prevede tante aree sostanzialmente ci sono quelli che vengono detti i processi primari i processi di supporto e i processi organizzativi quindi rispetto allo sviluppo quindi la scrittura del codice banalmente vedete che anche solo all'interno dei processi primari noi abbiamo un sacco di altre attività abbiamo i processi di acquisto noi abbiamo dei fornitori i fornitori da cui andiamo a comprare che so delle librerie dei componenti software che abbiamo già che sono già stati sviluppati e vogliamo integrare all'interno del nostro sistema abbiamo attività di fornitura e quindi dobbiamo andare a interagire con i nostri clienti definizione dei contratti fornire dei preventivi gestire la parte di interazione e modifiche abbiamo per l'appunto la parte di sviluppo ma abbiamo anche la parte di operatività ovvero andare a gestire il sistema una volta che è in funzione e ovviamente abbiamo anche la parte di manutenzione che è simile sia allo sviluppo ma riguarda la gestione di tutte le segnalazioni che possono arrivare al nostro sistema quindi c'è un difetto ci viene segnalato e quindi dobbiamo far partire un'attività di correzione del nostro difetto oltre a questi che sono i processi primari quindi dobbiamo comprare i componenti che andremo integrare dobbiamo vendere il nostro sistema dobbiamo costruire il nostro sistema dobbiamo farlo funzionare quindi metterlo in operatività e dobbiamo andare a garantire la manutenzione oltre a questi ci sono anche processi di supporto e processi organizzativi i processi di supporto riguardano la scrittura della documentazione la gestione delle configurazioni quindi io devo poter mantenere tutte le varie versioni o le varianti del mio software e devo andare a gestire quella che è la qualità e quindi avrò degli obiettivi che sostanzialmente corrispondono in rispetto di alcune pratiche nell'andare a garantire un certo livello di qualità del mio prodotto e tutti questi sono processi di supporto che sostanzialmente vanno in aiuto di quelli che sono i processi primari e poi abbiamo quelli che sono i processi organizzativi e qui abbiamo il management quindi vi dicevo prima banalmente capire chi deve fare che cosa e in che tempi abbiamo l'improvement e quindi a fronte di problemi e soluzioni che vengono trovate andare a migliorare il modo di lavorare quindi scopro che un certo linguaggio una certa libreria non va bene allora devo andare a migliorarla la gestione di tutte quelle che sono le infrastrutture banalmente i nostri programmatori avranno bisogno di un pc avranno bisogno del software con cui lavorare avranno bisogno di un database a cui appoggiarsi e quindi tutto questo io in qualche modo lo devo fornire e poi il training se io voglio che i miei programmatori utilizzino un nuovo linguaggio di programmazione in qualche modo devo andargli a insegnare ovviamente sto banalizzando ma giusto per darvi un'idea di cosa si tratta quindi quando ho nuove tecnologie che voglio utilizzare devo andare anche a prevedere un momento in cui io formo i miei dipendenti immagino che loro abbiano studiato all'università java però nel frattempo è uscito java 15 java 16 con alcune nuove caratteristiche posso pensare di fare nuove attività di formazione per aggiornare le mie persone e quindi permettergli di lavorare meglio sui miei progetti quindi tutto questo tutte queste attività sono quelle necessarie per andare a gestire un processo software tanto per darvi un'idea quando parliamo di sviluppo il nostro standard va a definire tutte queste sotto attività quindi quello che si chiama un process instantiation ovvero devo mettere in atto tutte le mie attività quindi devo sapere che cosa fare e quando fare faccio un piano iniziale system requirement analysis analizzo i requisiti per poter andare a costruire un software che risponda a questi requisiti system architecture definition vado a definire quella che è l'architettura del mio sistema qui sotto ho poi replicati software requirement analysis e software architecture definition perché ho questo doppio passaggio perché qui stiamo parlando di sistema un sistema comprende sia componenti hardware che componenti software e quindi devo fare sia un'analisi a livello di sistema che include hardware e software sia poi successivamente più focalizzato una fase relativamente solo al software poi ho il design di dettaglio coding e unit testing integration integration of software units software validation quindi devo andare a verificare che effettivamente quello che ho prodotto corrisponda alle esigenze di partenza system integration metto tutto assieme e system validation quindi inizio col software se immaginiamo di avere una app posso anche farla funzionare su un emulatore verifico che l'applicazione che funziona sull'emulatore di fatto corrisponda a quello che voleva il mio utente il mio cliente e poi faccio system integration quindi metto l'app sui dispositivi che effettivamente utilizzerà il mio cliente e vado a verificare che su quei dispositivi l'app si comporti correttamente ok ovviamente sto banalizzando perché l'app magari gira su tanti dispositivi molto semplici quali i telefoni cellulari ma magari sto sviluppando un software che deve andare a funzionare su dispositivi molto particolari o in un contesto molto complesso e quindi la software integration e validation potrebbe essere un pezzo nel contesto di quella che poi è una integrazione e una validazione di tutto il sistema complessivo allora domanda la domanda era sul passo precedente qui quando parliamo di di training la formazione avviene tramite i corsi domanda è possibile che l'aggiornamento venga lasciato al dipendente quindi autodidatta allora ragionevolmente in un'azienda se io penso di utilizzare una nuova tecnologia quello che faccio è organizzare un corso oppure chiedo a una persona di studiarla e poi chiedo a quella persona di spiegarla a tutti gli altri è ovvio che poi le persone singoli possono studiare e aggiornarsi ed è bene che lo facciano però ragionevolmente in una organizzazione medio grande è ragionevole aspettarsi che l'organizzazione possa organizzare dei corsi o delle attività di formazione per le persone attenzione magari i corsi non vengono fatti dall'azienda ma vengono subappaltati a qualcuno esterno però è bene prevedere anche questo in questo contesto vi faccio notare che questo standard non ci dice bisogna fare tutto questo e come farlo ci dà semplicemente un elenco di tutto quello che ragionevolmente dobbiamo andare a considerare quando mettiamo in piedi un processo di sviluppo software e quindi dobbiamo pensare che qualcuno si occuperà delle acquisizioni qualcuno della vendita avremo le attività di sviluppo di operatività di manutenzione eccetera è chiaro che se io sviluppo un'app a sé stante che vendo e dietro a quell'app non c'è nulla quindi non c'è nessuna infrastruttura la parte di operatività io posso anche non averla se la mia organizzazione è molto piccola magari il training non lo faccio lascio che ognuno si aggiorni per conto suo se il mio obiettivo è guadagnare soldi in fretta senza tanti altri dettagli tutta la parte dei processi di supporto quindi documentazione configuration management quality management me la posso risparmiare il punto è che questa se volete potete prenderla come una specie di checklist che vi dice ecco se tu vuoi mettere in piedi un sviluppo del software pensa almeno se queste singole attività le devi fare ti servono e come pensi di farle